Il regolamento contabile del Consiglio regionale, versione attuale, è stato approvato nella seduta del 15 febbraio 2011. Successivamente a questa approvazione, quindi negli ultimi tre anni, sono intervenuti il decreto legislativo 118-2011, recante disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi. E successivamente il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2011, che definisce le modalità di questa sperimentazione. In vigenza del periodo di sperimentazione, per poter dare attuazione ai principi e alle disposizioni previsti dal decreto legislativo 118-2011, si è tenuto opportuno apportare alcune modifiche al regolamento contabile del Consiglio regionale. Di seguito illustro le principali proposte di modifica. In tema di bilancio, all'articolo 2,1, lettera E, viene aggiornata la definizione di bilancio di previsione, che viene redatto per il triennio di riferimento, in conformità ai principi contabili e agli schemi, di cui ha il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. All'articolo 4 sono aggiunti tre commi. Il Comma 1bis precisa che il bilancio è una natura autorizzatoria, nel senso che gli stanziamenti di spesa costituiscono limiti agli impegni e ai pagamenti. Il Comma 1ter istituisce il fondo di riserva, iscritto in bilancio nella misura massima del 2% delle spese correnti inizialmente previste, che può essere utilizzato per esigenze straordinarie di bilancio, nel caso in cui le dotazioni dei macro aggregati di spesa si rivelino insufficienti. Il Comma 1quater istituisce il fondo pluriannale vincolato, costituito da risorse già accertate, destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. All'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche. Al Comma 1 lo schema di bilancio è predisposto dal Segretario Generale entro il 31 ottobre e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato. Al Comma 2, prima di essere deliberato all'Ufficio di Presidenza, lo schema di bilancio è illustrato alla Commissione Consiliare competente in materia di programmazione bilancio e tributi e alla conferenza dei capigruppo. Il termine a disposizione del Consiglio per l'approvazione del bilancio viene prolungato dal 25 settembre alla fine dell'anno, fermo restando che l'approvazione deve precedere quella del bilancio della Regione. Ci sono poi due modifiche conseguenziali al Comma 3. All'articolo 6 è introdotto il Comma 1 che prevede che una volta approvato il bilancio l'Ufficio di Presidenza approvi due punti successivi, ossia il documento tecnico di accompagnamento che ripartisce per ciascuno degli anni considerati nel bilancio le tipologie di entrata in categorie e i programmi di spesa in macro aggregati. Successivamente il bilancio finanziario gestionale che ripartisce per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio le categorie e i macro aggregati in capitoli ed eventualmente in articoli. All'articolo 7 con il nuovo Comma 3 bis sono declinate le competenze dell'Ufficio di Presidenza il quale dispone direttamente le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione. Dispone inoltre le variazioni compensative fra le categorie delle medesime tipologie di entrata e fra i macro aggregati del medesimo programma di spesa. Dispone poi le variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di cassa i prelevamenti dal fondo di riserva. Dispone infine le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriannale vincolato dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate. Con il Comma 4 bis dell'articolo 7 si prevede inoltre che i prelevamenti dal fondo di riserva siano comunicati al Consiglio entro 90 giorni dalla loro approvazione. Successivamente all'articolo 8 sono confermate con alcuni adeguamenti le attuali competenze dell'Ufficio di Presidenza in ordine alle variazioni tra capitoli e articoli della medesima categoria di entrata o macro aggregato di spesa nonché a quelle inerenti a entrate e uscite per conto terze partite di giro. All'articolo 9, cito il Comma 3, si anticipa il termine entro il quale il Consiglio deve approvare il rendiconto è anticipato appunto dal 30 giugno al 31 di maggio e in precedenza con il Comma 2 si prevede che l'Ufficio di Presidenza adotti lo schema di rendiconto entro il 30 aprile. All'articolo 13 si prende atto della reale intestazione del conto corrente al Consiglio regionale, si aggiunge tra al Comma 4 fra le fattispecie di entrata l'ipotesi di restituzione di quote di monumenti da parte dei Consigli regionali. A questi due articoli, 9 e 13, sono stati presentati due emendamenti. Si introduce poi al Comma 5 bis dell'articolo 13 il concetto di accertamento dell'entrata come previsto dai principi contabili imputato l'esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene a scadenza. L'articolo 16 dedicato alla fase di liquidazione della spesa viene completamente riscritto alla luce dei principi contabili e delle normative in materia di regolarità contributiva tracciabilità dei pagamenti, pubblicità e trasparenza. All'articolo 17 al Comma 5 viene prevista la possibilità di trasmissione dei mandati al tesoriere a cura del delegato del dirigente. All'articolo 28 ci sono alcune norme transitorie fino all'adozione da parte dell'Ufficio di Presidenza della deliberazione di cui è precedente articolo 19 Comma 5 rimangono in vigore i decreti emanati dal Segretario Generale. Poi con l'occasione sono apportate alcune modifiche anche ad altre parti del regolamento contabile. L'articolo 18 dedicato alle spese di rappresentanza si prevede che l'ordineazione fatta dal Presidente per l'erogazione delle spese avvenga per il tramite della struttura competente in materia di cerimoniale. In tema di contratti pubblici all'articolo 21 si prevede un unico responsabile di procedimento per l'acquisizione di beni e servizi individuato nel dirigente della struttura organizzativa competente in materia di contratti attraverso l'eliminazione della soglia dei 20.000 euro al di sotto della quale risultano invece responsabili i dirigenti della struttura utilizzatrice del bene o servizio. L'articolo 19 sempre in tema di contratti pubblici si prevede che le richieste di acquisizione di beni o servizi vengano formulate alla struttura organizzativa competente in materia di contratti attraverso l'apposita scheda riportante gli elementi essenziali necessari per l'affidamento. Si prevede inoltre che al termine dell'esercizio finanziario il Secretario Generale trasmetta all'ufficio di Presidenza un resoconto che attesti quali delle forniture sono state affidate con quali modalità di scelta del fornitore e con quali corrispettivi contrattuali. Si attribuisce infine all'ufficio di Presidenza il compito di individuare su proposta del Secretario Generale le categorie e le soglie entro le quali è ammesso il ricorso la procedura del cottimo fiduciario. Infine all'articolo 23 viene sostituito il comma 1 per prevedere il costante aggiornamento della situazione delle entrate e delle spese nella sezione internet denominata dati di bilancio in tempo reale che deve riportare per ogni capitolo di entrata e di spesa i dati relativi alle previsioni iniziali alle variazioni intervenute nel corso dell'anno alle previsioni attuali agli importi accertati o impegnati e all'importo disponibile grazie grazie a tutti